Civil Week 2024, siamo in Piazza del Salto a Cinisello Balsamo in compagnia di? Io sono Veronica Salerio e appunto insieme al Comune e le altre associazioni del Tavolo Povertà abbiamo messo in piedi sia gli altri anni ma anche quest'anno appunto l'organizzazione della Civil Week a Cinisello Balsamo coinvolgendo varie associazioni appunto del Tavolo che hanno fatto varie cose quest'anno in giro per Cinisello quindi gli anni scorsi eravamo un po' più concentrati in un unico posto invece quest'anno abbiamo provato a farlo in maniera un po' diffusa e in particolare appunto qui oggi a parte Slow Food col mercatino e Fondazione Uprema con lo Spazio Puff noi in particolare con i volontari del social market abbiamo organizzato un mercatino di scambio in cui le persone possono venire, prendere i vestiti o gli oggetti che abbiamo a disposizione e lasciare in cambio o una donazione oppure un prodotto proprio alimentare che poi utilizzeremo all'interno del social market che appunto è questo emporio solidale che gestiamo a Cinisello Balsamo con varie appunto realtà tra cui Torpedone e Mars che sono le mie realtà e che distribuisce appunto delle spese settimanali alle persone in difficoltà segnalate dai servizi e quindi insomma venite a trovarci, venite a prendere le cose, abbiamo un sacco di cose carine c'è anche un bel tempo e grazie a tutti Buona Civil Week! Grazie! Grazie a tutti!